Fai le gireste, fai le ragliettine e insomma fai tutti questi vestirelli e resti là dentro. Io domani mattina arrivo e sono contento. E tu fai un bel pastro. Che cosa devo dare? Un pastro. Ma non sei lato? Ti ho appena dato da bere. Mi hai dato da bere ma ci vuole un bel pastro. Io ci ho fame e ci voglio un pa. Cosa faccio bambini? Io lo do un colastro o no? Io lo do un colastro.